E' morto schiacciato dal trattore Mauro Rolando, 62 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 11 a Badalucco in Alta Valle Argentina nell'entroterra di Arma di Taggia in frazione Ciabauro. L'uomo stava percorrendo una strada secondaria piuttosto scoscesa quando, come possiamo vedere nelle immagini concesse da Rivera 24, il trattore si è ribaltato sul fianco destro per causa in corso di accertamento. L'agricoltore è stato sbalzato e travolto dal mezzo, una moto agricola del peso di circa 10 quintali ed è morto sul colpo. Sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte del medico del 118 e dei militi della Croce Verde di Arma di Taggia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed è stato allertato in vano alle di soccorso. Le indagini e i rilievi sul caso sono condotte dai carabinieri e dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 1. La tragedia ha suscitato cordoglio nella comunità di Badalucco.